Allora, video serio, video serissimo, perché oggi, cioè, venne martedì, ho fatto il compito di italiano. È stato un compito un po' difficilotto. La prima parte è stata facile, poi la seconda parte è stata insidiosa, però io non mollo mai. Io ci ho creduto, adesso ancora non so il risultato, però ve lo dirò. Dico solo che un compito così difficile non me l'aspettavo. Sono 20 frasi con l'analisi logica, analisi logica con i complementi. Insomma, i complementi ci siamo quasi. Poi, attivo-passivo, che è una cosa che più o meno ci siamo, più o meno siamo sulla strada buona. E poi i verbi, che erano molto difficili. Attivo-passivo, coniugazione, se è propria o impropria. E quindi io davvero sto stanco. Quindi davvero ho riflettuto in questi giorni per vedere questo compito, come era difficile. Ma c'aveva una difficoltà davvero molto, molto alta, molto alta. Perché, come si dice, adesso finisce la seconda media e inizia l'inferno della terza media, con gli esami. Perché poi si studia lì. E quando io dico studiare, lì ci dobbiamo rompere tutto. Lì dovremmo lavorare. Dobbiamo, dobbiamo, cioè davvero dobbiamo studiare in terza media. Allora, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Pronostico, voto italiano, vi dico, 7, 7, voto normale. È un voto normale, non esageriamo. Perché, come si dice in questi casi, l'esagerazione non porta mai da nessuna parte. Ed è così. Perché se io davo 8 come pronostico, 8 diviso 2 fa 4. Quindi l'8 porta sfortuna, l'8 porta seccia. Quindi non parliamo. 8 diviso 2 fa 4. Quindi non parliamo.